Buongiorno a tutti e benvenuti allo aggiornamento di flash di Meteoscienza. Ecco che stiamo per discutere un'importante evoluzione, due importanti peggioramenti. Il primo, eccolo qua, sabato sera. Qui le temperature aumenteranno temporaneamente per il sopraggiungere di un peggioramento che porterà piogge intense al nord-ovest e a alto tirreno. E qui ecco la saccatura del nucleo artico che scenderà martedì mattina nel Mediterraneo centrale portando mal tempo e anche nevicate in montagna. Guardate dove si andrà a collocare il nucleo. Sul nord Italia un nucleo gelito con meno 25 gradi nella media troposfera a 5.000 metri e guardate le anomalie di geopotenziale, di pressione che previste. Cioè il nucleo è proprio sopra le nostre teste. L'artico sopra le nostre teste. Questo è sabato mattina. Una prima intensa perturbazione si approssima al nord-ovest. Già pioverà piuttosto intensamente. Ed ecco sabato sera. Si sposta tutto verso est. Mal tempo su alto tirreno. Ancora rovescia al nord-ovest. Poi sopraggiunge, eccola qua, domenica mattina. Rovesci su tutto il tirreno. Le centrali bersagliate dal mal tempo ma non è finita. Ecco che arriva il nuovo peggioramento. Domenica sera nuova intensa perturbazione che si forma in pieno Mediterraneo centrale grazie all'aria fredda che arriva dall'artico. Ed è lunedì mattina. Ulteriore peggioramento. Forte mal tempo nelle regioni centrali tirreniche. Anche con accumuli notevoli e temporali anche di forte intensità. Poi arriva il nucleo artico. Una perturbazione dietro l'altra. Piogge stese, temporali forti e neve sulle Alpi. Neve a mille metri di quota sulle Alpi. Ecco il corridoio artico che arriva. Questo è il mal tempo che arriverà. Un fiume di aria fredda che si butta nel Mediterraneo. Si getterà. Primo peggioramento sabato sera. Poi martedì forte mal tempo. Arrivederci a tutti da Meteoscienza. Un abbraccio.